Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Noi viviamo qui, ti aspettiamo qui e non sarà così. E non sarà così. Resistiamo ora come allora, come allora. Come andiamo ora senza posa. Come andiamo adesso, io vi aspetto, io ci metto tutto me stesso. Siete solo poveri soldi, che pensate solo ai soldi? Che pensate ai vostri affari e attorno a conti personali. Qui, ti aspettiamo qui. Qui, noi viviamo qui. Qui, ti aspettiamo qui. Qui, ci danno per me. Qui, ti danno per perdi. Qui, ti danno per morti. Qui, ti aspettiamo qui. E non sarà così. E non sarà così. E non sarà così. Noi vogliamo, per concludere, garantire il futuro dei nostri figli e del nostro ambiente. E per questo possiamo dire che la valle c'è nel 2005. C'è oggi, in forse, e ci sarà sempre. Auguro a tutti voi. Grazie. 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 Grazie.